Musica Amici tra i bimeti ho bentornato a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì che vedrà ancora un centro di bassa pressione sul Mediterraneo centrale, sul Tirreno in particolare condizionare il tempo sulle nostre regioni centro-meridionali ma soprattutto al sud. Quindi vediamo più in dettaglio la nuvolosità prevista sull'Italia con appunto queste nubi che ruotano attorno a questo centro di bassa pressione posizionato sul Basso Tirreno, nuvolosità che darà luogo anche a qualche acquazzone in quelle zone. Quindi vediamo le precipitazioni previste con nuovi temporali, nuovi acquazzoni che interesseranno la Sardegna orientale, gran parte della Sicilia e anche le zone interne delle regioni del Medio e Basso Tirreno, Lazio, Campania e Calabria. Intanto si avvicina una perturbazione al nord, quindi più in dettaglio sarà una giornata quella di venerdì ancora caratterizzata da acquazzoni temporali intorno al Medio e Basso Tirreno, ma in particolare sulle isole maggiori dove potremo avere ancora fenomeni piuttosto intensi e diffusi. Nel resto del paese ampie zone di Serino, tra l'altro al nord ancora gran caldo, temperature che continuano a superare i 30 gradi all'ombra.